Buon pomeriggio, bentrovate, bentrovati. Oggi parliamo di novità, novità scintillanti e luminose per l'estate. Devo ringraziare Maria Stella che mi ha avvertita. Io ho controllato al mattino alle 7 sul sito di Cosmetics for Less e non c'era ancora nulla di questa nuova collezione, la Glowing Gold, quindi ringrazio Stella che mi ha avvisato e sono riuscita ad acquistare il tutto. Sapete che io ormai non aspetto anche perché Tigotà è in un altro comune, mi devo spostare appositamente, quindi preferisco prenderla immediatamente. Non appena esce sul sito di Cosmetics for Less la troverete su Nottino, su tutti i vari siti, Maria Novio vi ho già detto che ha Essence, alcuni pezzi della precedente collezione li avevo appunto acquistati lì. Li prendo in anticipo per testarli e darvi anche il mio feedback per capire se meritano, se vale la pena farveli acquistare. Ho preso due Lip Balm che ricordano tantissimo i due Lip Balm di questa linea uscita lo scorso anno in primavera, la Bloom Baby Bloom. Tra l'altro anche Maria Stella mi ha menzionato una youtuber tedesca che io non conoscevo e mi sembra che si chiami Misolde, mi lascio il riferimento qui in sovraimpressione e giù in infobox, ma io seguo una ragazza che non ho ben capito se è brasiliana, portoghese o spagnola. Ha un inglese che ben comprendo, sapete che io so l'inglese ma ho studiato il francese che è molto nelle mie corde, riesco a percepire benissimo. L'inglese stretto ha bisogno da parte mia di una concentrazione che invece con Vasilisky, mi sembra non si chiami così, non vorrei pronunciare male, mi scuso se sentite sempre sottofondi della campagna e degli animali campagnoli, ma non posso farci nulla. Comunque anche Vasilisky faceva il riferimento a questi lip balm che qui vedete in arancio, però ve li avevo già promossi, c'era anche la variante fucsia che regalava proprio un bel colore polposo alle labbra, sono dei lip balm infusi con vitamina E e olio di jojoba per labbra vellutate, io le ho già testate queste due texture, lo 01 ha una shade luminosa, trasparente, luminosa quindi da aggiungere a qualche matita per esaltarla, per renderla molto radiosa soprattutto in estate, penso al mare, al ritorno dopo una giornata di sole, ha una profumazione aranciata, mentre adoro, adoro letteralmente lo 02, il golden magic, ha un profumino buonissimo, sembra la nivea, buonissimo, è proprio un prodottino favoloso, dà quella colorazione rosata, all'interno ha queste perle dorate che poi si frantumano nel momento in cui andate a stenderla sulle labbra, sono due prodotti che io amo utilizzare, ne acquisto sempre, vi faccio vedere questo è quello di Astra, quello di Claren che ho già amato e vi ho già promosso negli anni, hanno anche questo scovolino molto morbido, che non vi frantuma le labbra come dico io, si appoggia benissimo, è molto suave, molto lieve nel momento della stesura, accompagna proprio il prodotto sulle labbra, vi sentite baciate come se le ali di una farfalla si fossero poggiate sulle vostre labbra, quindi per me due promossissimi. Altro prodotto in edizione limitata ho visto su Instagram già qualcuno che lo paragonava e lo considerava il dupe dell'ultimo uscito in casa Maybelline, in edizione limitata I Love Extreme, questa che è una linea presente in gamma permanente da Essence, qui vedete il pack dorato, promette un volume pazzesco, crazy volume, lo scovolino è questo, completamente in silicone con i dentini molto molto fitti, molto piccoli per andare a abbracciare tutte le vostre ciglia e allungarle, io l'ho dato oggi ma non lo vedete benissimo. Che ve lo dico a fare? Io adoro i mascara di Essence, secondo me hanno delle performance altissime per il prezzo ridicolo, irrisorio a cui si acquista, quindi neanche a lasciarlo lì. Ero molto indecisa sull'acquisto di questo body shimmer gel perché temevo fosse il solito gel troppo luminoso, quasi pacchiano e sono contenta per due motivi, mi è capitato ieri di passare da Wicon e vedere le nuove uscite, queste basi luminose anche per il corpo, questi gel da utilizzare proprio per risolvere, esaltare la bronzatura e hanno la stessa shade e la stessa nuance di questa di Essence, il prezzo ovviamente è ridicolo in confronto a quello di Wicon, carina le commesse che mi hanno fatto vedere la nuova edizione, vi dico è hermosa, uscirà a breve. Qui dice di shakerare e quindi shakero e rispalmo questa texture meravigliosa da dare sì sul corpo, sul decolleté per risaltare dopo una giornata di mare, ragazzi io sono già in fase di mare, una profumazione di caramella mou, anche qui il momento hot cala, qui è da farvi leccare dai vostri amati, regala una luce molto discreta come piace a me, una texture che si assorbe subito, non appiccica, anzi qui vi dico poi ne riparleremo, il famoso prodotto che ho acquistato da Hypercop, il cocco, ahimè, profuma di autoabbronzante, dopo un po' sarà il pH della mia pelle, niente, io li ossido e tirano fuori quell'odore di ferroso che non riesco a tollerare, quindi devo per forza rimuovere, devo docciarmi, me lo sento ovunque e peccato perché è molto leggero anche quello, 95% di ingredienti di origine naturale, ma ahimè la profumazione di autoabbronzante appare anche lì, ne riparleremo, comunque questo per il prezzo a cui l'ho acquistato veramente neanche a lasciarlo lì, può essere utilizzato in ogni dove, proviamolo un attimo come illuminante, confermo che questa profumazione di caramella sicuramente tenterà tutte le persone che vi circondano, ma che meraviglia entrare in ufficio e profumare di caramella, insomma, mette di buon umore tutti sicuramente e poi si assorbe subito, non è troppo pacchiana, sfrontata, vedete, regala una luminosità discreta. Nulla da dire sui pack di Essence, tanta ricerca, mi piace tantissimo, maschera idratante, viso d'oro, vedete un unico foglio suddiviso in due parti, sicuramente il quantitativo all'interno custodito di un singolo frangente sarà utilizzato almeno per due volte da me, non penso di utilizzarlo tutto in una volta, addizionata con glicerina per regalare non solo un incarnato radioso ma un'idratazione profonda. Ho sempre visto nel video di Vasiliski questa texture gold, quindi la proverò, magari, non lo so, girerò un video skin care per farvi vedere questo prodotto. La cosa che ho notato, acquistandola sul sito di Cosmetics for Less, a me personalmente, vietava di rifornirne più quantità, non più di una, sia che modificassi il carrello finale nel momento del check out, sia che aggiungessi. Probabilmente anche Cosmetics for Less ha capito che una singola persona va poi a esaurire le scorte presenti in magazzino e quindi non più di un acquisto con più prodotti della stessa referenza. Lì per lì mi sono indispettita, ragionandoci però penso sia giusto, perché capitava spesso che si arrivasse sul sito di Cosmetics for Less e fosse già tutto sold out, è già successo con i pennelli e via discorrendo. I due bronzer cotti luminosi, vedete le due shade, una più chiara e l'altra più scura, lì non ho pensato, mi è mancato l'ossigeno al cervello, ho preso tutte, due e sono due belle nuance. Tra l'altro hanno una profumazione di autoabbronzante, che non è che mi piaccia tantissimo. Questo è il primo che va proprio su di me a scaldare, anche se ha una base più fredda, oserei dire, rispetto a questa, più mielata, più caramellata. Sono due belle cialde che finiranno nel 3020, addizionato con vitamina E. Sapete il mio uso creativo dei prodotti, non limito esclusivamente il bronzer alle guance, bellissimo anche per creare un make-up, per andare a creare una sfumatura dorata, ombrata sugli occhi con un po' di mascara, voglio dire, in vacanza, al mare, tutto è lecito e queste cialde io le riutilizzo così. Dimensioni ridotte, vedete la differenza dei pack, un po' cheap perché sono in plastica, ma sono perfetti per quanto mi riguarda per portare al mare in borsa. Qui vedete l'illuminante cotto che è arricchito con vitamina C e anche da questo punto di vista mi piace la ricerca di Essence, la voglia di addizionare anche nei make-up infusi, oli, non solo di bisco, ne avevamo parlato non solo per quanto riguarda il blush di Catrice, ma anche quello di Essence cotto. Bellissimo, bellissimo anche questo in estate, ha quasi una texture granulosa, ma questo colore che dà luce, anche qui l'illuminante non solo esclusivamente utilizzato per dar luce nei punti cruciali, ma anche per creare un bel look sugli occhi. Tra l'altro qui vedete all'interno non solo il dorato, c'è anche del rose gold, bellissimo, mi piace tantissimo, quando mai non mi piace un prodotto di Essence, io mi accontento di poco. Applauso, è un'azienda, ormai lo sapete, che apprezzo e ammiro tantissimo, soprattutto per il grande sforzo che fa sovente tra una collezione e l'altra, perché è da poco che abbiamo parlato della precedente edizione, proprio la ricerca sempre di prodotti diversi l'uno dall'altro, insomma propone a 360 gradi prodotti nuovi nelle varie edizioni, volta scorsa ha presentato gli accessori, questa volta ha presentato la maschera per la cura della propria pelle, quindi un prodotto skin care, insomma mi piace, mi piace tanto. Sempre in tema di skin care rimaniamo e parliamo appunto di questo oglietto, sono 20 ml di siero alla vitamina C luminoso, bellissima la boccettina ambrata per non alterare il contenuto dell'olio, un siero come piace a me che non va in ogni dove, molto delicato, non troppo unto, buona profumazione, molto molto piacevole, sembra leggermente vischioso, sembra quasi che sia mixato dell'acido ialuronico che sapete, è contraddistinto sempre da quella texture vischiosetta, conferisce una luminosità naturale alla pelle per una tinta, un colore radioso, luminoso, molto nutriente, tra i nulsang, il, il, costituisce esso, costituisce la base migliore, ideale per un maquillage perfetto, senza pigmenti scintillanti, anche questo è un prodottino che non potevo lasciar lì, amanti dei sieri come siamo, è bello il pack, vi ripeto, il suo contagocce, questa ampollina in vetro ambrata che mi ricorda tanto i sieri che si utilizzavano nella bella Epoch, questa cura del particolare proprio per non andare ad alterare ciò che all'interno è contenuto, quindi una bellissima collezione di Essence che non mi delude mai, è inutile, mi vedrete tartassare il canale con tutte le uscite di Essence perché secondo me meritano, meritano tantissimo, ho visto che da Tigotà insomma qualche prodotto arriva, però ormai siamo avvezze ad acquistare online. Approfitto dell'edizione limitata di Essence, la Glowing Gold, per recensirvi anche un altro prodotto che dona luminosità, vi ricordate il cuscino Omnia, ne avevo parlato in un video novità e ci eravamo ripromesse di recensirlo dopo un utilizzo, è passato più di un mese e ora sono pronta anche perché me lo avete chiesto, io non credevo ma in tante mi avete chiesto di recensirlo. Sorprendentemente io non riesco più a dormire senza questo cuscino. Allora lo vedete qui è molto strano perché è concepito in modo tale da farvi appoggiare il vostro capo in posizione centrale e queste due zone molto più scavate vi permettono quando siete stese sul fianco di perseverare la zona e conservare al meglio la zona degli occhi, del contorno occhi, delle guance e del triangolo naso labiale. Questo perché solitamente quando dormiamo capita poi al risveglio di trovare le zone stropicciate sulla vostra pelle, non so se capita solo a me ma a me è successo anche nella zona del décolleté. E questo cuscino, vedete la federa che tra l'altro è sfoderabile, lavabile, è studiato, ora vi rimostro il prodotto. Ve l'ho proprio denudato. Vedete, ha addirittura questo doppio scalino che vi permette di girarvi su un fianco, riposarvi e di inserire al meglio, coccolando e sostenendo al meglio la zona delle guance, del contorno occhi, come vi dicevo prima. Allora, sarà stata una coincidenza da quando io utilizzo questo cuscino ho riscontrato un sonno migliorato. Mi sono resa conto, sarà la primavera coincidenza in quel senso lì che aprile, dolce dormire, l'uso del cuscino, non lo so, però dormo molto più profondamente, è come se il mio sonno fosse migliorato. Questo cuscino è infatti strutturato benissimo anche per accogliere bene il collo, per sostenere al meglio la colonna vertebrale, la vostra spina dorsale, anche la parte in cui appoggiate la spalla, le spalle, la schiena, tutta la zona che appunto vi dicevo poi viene compressa, stropicciata nel momento in cui dormite di fianco, io dormo di fianco in posizione fetale, ho trovato un netto miglioramento del sonno, della qualità del sonno e per quanto riguarda lo stropicciamento nella zona del décolleté, della zona del seno, insomma molto più limitata. Le occhiaie sono comunque la mia, è un'occhiaia dovuta a pensieri, problemi anche sul lavoro, mi vedete sempre sorridente, ma insomma ho un bel carico di pensieri anche a livello personale e direi che questo prodotto per chi ha cura non solo della propria qualità notturna di riposo, ma anche per chi vuole comunque una postura corretta che poi porti un beneficio anche alla pelle con una maggiore ossigenazione, io direi che è un prodotto validissimo. Sapete che il mio primo approccio è stato anche abbastanza sottotono perché aveva un costo e in epoca di covid con tanti cassa integrati, persone che non stanno lavorando, da questa parte proporvi un prodotto del genere, insomma, se non vale veramente la pena, se appunto non c'è un beneficio effettivo è molto antipatico e poco professionale, però sono molto soddisfatta e sollevata nel dirvi che testandolo per un mese e più mi sono trovata veramente bene. Tra l'altro l'azienda dice che è un investimento iniziale, mi sembra 100 dollari sul sito, ma vi lascio giù i riferimenti e comunque col mio sconto avete sempre una riduzione del prezzo, vi lascio giù in infobox tutti i riferimenti, è comunque un prodotto che vi evita di andare a comprare creme rassodanti, nutrienti, cioè anche la crema ha un costo, se siete sempre a comprare creme e invece questo è un prodotto che vi rimane nel tempo, insomma, avete ammortizzato. Io non sono tipa ad andare a fare le punturine, però anche le punturine hanno un costo per chi vuole distendere la zona naso-labiale, le famose rughe da marionetta e si tratta anche tanto di massaggio yoga, un settore che sto approfondendo e secondo me questo prodotto che tra l'altro ha questo materiale simil memory è proprio una schiuma concepita come i cuscini ortopedici, ne troverete beneficio. Da questo punto di vista ve lo posso garantire, faccio fatica a ridormire nel cuscino normale. Vi ho detto che la prima notte ho fatto fatica perché è questione comunque di adattarsi, ma anche se è più piccolo rispetto al cuscino normale, io ricerco solo lui, cioè è proprio fisso nel mio letto, non lo cambio e l'altro lo lascio per bellezza, lo metto nella testina del letto, insomma. Quindi questa è la mia recensione, per me è un promossissimo, lo slip and glow è un promossissimo, tra l'altro questo memory foam, questo materiale che ben si adatta a tutti i visi, a tutti i volti, al 90% delle dimensioni dei volti delle donne, ha poi un particolare supporto per la spina dorsale, insomma, veramente, sono stata molto lieta di provare questo prodotto, qui vedete la modella come appoggia il capo, vedete la zona che vi dicevo come viene conservata, quasi sostenuta, perché ci sono le due parti superiori e inferiori che sostengono il volto, il collo appoggia benissimo e da proprio una distensione della colonna vertebrale, io vi devo dire davvero di essermi trovata bene, quindi vi lascio giù in info box tutti i riferimenti, è stata una piacevole scoperta e grazie all'azienda americana che mi ha contattato, perché veramente non avrei creduto se non ci avessi battuto di naso, io spero di esservi stata utile, vi ringrazio per essere stata in mia compagnia, un bacio grande e noi ci vediamo alla prossima edizione limitata di Essence, ciao!